ho messo un po di acqua adesso metto piano piano il gesso prima si mette l'acqua poi si mette dentro il gesso piano piano poi si lascia lì 4 o 5 minuti ho messo un'asta per poter poi fare ricreare lo spigolo dell'angolo perché è stato tolto quindi ho messo un'asta già potete metterla anche voi cercando di tenerla dritta a questo punto il gesso ormai si è quasi durito comincio